Il mistero di Via dei Pescatori o meglio del tratto iniziale all'AXA di Via dei Pescatori. I cittadini e gli automobilisti ci contattano per una perdita d'acqua e invece ascoltate cosa abbiamo scoperto. Cos'è quest'acqua che arriva ma è una perdita d'acqua? Che cos'è? Non è una perdita d'acqua ma è il frusso dell'acqua che viene da Via di Aciria. Dopo una grande pioggia l'unico sbocco che c'è è la discesa di Via dei Pescatori che non c'è canalizzato né nessuna fogna e nei canali di scarico sono stati tutti chiusi e non ci sono su Via di Aciria. Quindi qui non c'è un tubo che si è rotto? Nessun tubo dell'acqua potabile. Ogni volta che... Acqua piovane, tutte le volte che piove ci troviamo in queste condizioni. Scusi ma lei è sicuro sicuro? Sicuro al 100%. Lei è amministratore pure del condominio? Ci metto la mano sul fuoco e sono sicuro al 100% di quello che dico. Decine di segnalazioni arrivate negli ultimi giorni alla nostra redazione parlavano di una perdita d'acqua copiosa tra Via di Aciria e L'Axa. Pensavamo di avere a che fare con l'ennesimo guasto alla conduttura idrica come purtroppo capita spesso nel decimo municipio. E invece... E noi avevano segnalato una perdita d'acqua. Ho fatto esposti alla CEA, ho fatto esposti al Comune, ho sollecitato al Consorcio. Ora, i vigili urbani, ho chiamato l'anno scorso, diffidandoli per il problema dell'acqua acquista. Non è competenza nostra, mi hanno risposto i vigili urbani. La sala, la cosa buffa, che ci hanno segnalato, degli automobilisti che sono passati qui, ci hanno segnalato la perdita d'acqua. Guardi qua, vedono tutta quest'acqua, sono confinte con una perdita d'acqua, mentre in realtà non è vero. Ovviamente un problema enorme per questa strada, oltre al flusso d'acqua che arriva da Via di Aciria, sono le piante, sono i pini. Questi pini, le loro radici hanno ormai distrutto tutta la carreggiata, stanno creando problemi importanti anche al muro di cinta di questo condominio, addirittura in alcuni punti è spaccato e i condomini pensano possano essere state proprio le radici. Purtroppo si temono anche possibili danni alle fognature. Insomma, qualcuno dovrebbe intervenire sia sulla perdita d'acqua che su queste piante. Da L'AXA per Canale 10, Marazzarelli.